Si entra nel 2024 e si entra anche negli ultimi cinque mesi e mezzo di amministrazione di Matteo Ricci nel suo decimo anno da sindaco di Pesero. Un tema, quello del futuro politico di Ricci, è entrato nella conferenza stampa di fine anno anche alla luce del fatto che esiste una possibilità di terzo mandato al vaglio di valutazioni ministeriali che potrebbero concretizzarsi nel mese di gennaio. Probabili per i comuni fino a 15.000 abitanti, un po' meno per le città dalla demografia superiore. Nella conferenza stampa di fine anno Ricci glissa su una possibilità di terzo mandato non ragionabile alla luce del fatto che ancora non esiste, ma piuttosto si concentra su un futuro praticabile nella sfera politica nazionale. Ho già dato la mia disponibilità pubblicamente al mio partito, alla segretaria del mio partito, alla candidatura all'europea. Vedremo stare a lei e decidere. Di certo, come dico spesso e come credo sanno tutti, mi piacerebbe continuare a fare politica nazionale, la si può fare in tanti modi anche senza ruolo istituzionale, però ho dato la mia disponibilità alla segretaria per le elezioni europee, pur sapendo che per un marchigiano è una sfida al limite del possibile perché ovviamente siamo in un collegio Marche, Umbria, Toscana e Lazio dove i candidati del Lazio e della Toscana hanno molte più possibilità di essere eletti perché hanno 4-5 volte la popolazione dell'intera regione Marche. Sul tema del futuro sindaco di Pesero, Ricci guarda con fiducia al lavoro del centro-sinistra, non mancando di ironizzare sugli avversari. Stanno sfogliando l'elenco telefonico per cercare un candidato esterno che non trovano. È la dimostrazione che si rendono conto, credo, anche di una certa debolezza nel gruppo dirigente locale, quindi vanno alla ricerca di personalità esterne. Per fortuna non è un problema che abbiamo noi, abbiamo costruito un percorso molto partecipato all'interno del partito e con gli alleati per scegliere il candidato più forte e per fortuna al centro-sinistra e all'alleanza civica insieme anche al Movimento 5 Stelle non mancano le persone da candidare a sindaco.